Musica Ci sono voluti giorni di appostamenti e pedinamenti per individuare e arrestare con l'accusa di riciclaggio di auto rubate un trentenne e un trentacinquenne che agivano nella zona di Ardea sul litorale laziale. I due sono stati sorpresi dagli agenti del commissariato di Albano e della polizia stradale mentre stavano smontando il motore di un'auto di grossa cilindrata, risultata rubata nel novembre scorso. Da lì è partita la perquisizione nelle loro case dove sono state trovate alcune chiavi che aprivano alcuni container pieni di pezzi d'auto smontate tra cui tre motori in un'area deposito di via Ardeatina. I due sono stati arrestati per riciclaggio di auto rubate. Uno di loro, già condannato in precedenza ai domiciliari, dovrà rispondere anche dell'accusa di evasione.